Questo mese in promozione c'è un altro imperdibile accessorio Bernina, il piedino 23, il piedino per le applicazioni. È il piedino corto e trasparente, in modo che ci permette di gestire i cambi di direzione che nelle applicazioni sono davvero tantissimi e soprattutto di verificare l'esatta posizione del nostro ago. In più nella parte sottostante ha un solco profondo che ci permette di gestire anche i cordoncini di rinforzo o realizzare... andiamo insieme a vedere che cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.